La bambina che vedete qui dietro aveva solo i 10 anni quando riuscì a fermare un serial killer a cui sono stati attribuiti 22 omicidi. Era la notte del 31 dicembre 1999, Crystal Sars e la sua amica Katie Harris di 13 anni stavano dormendo nella camera di quest'ultima in Texas. Nel cuore della notte Tommy Lynn Sands era entrato nella loro camera, aggredì Katie pugnalandola alla gola. Quando Tommy si accorse della presenza di Crystal pugnalò anche lei alla gola. Crystal però si finse morta, era gravemente ferita ma ancora viva. Tommy uscì dalla casa convinto di aver ucciso tutte e due le bambine. Crystal con la gola gravemente recisa si trascinò vicino a Katie e rimase vicino lei fino al suo ultimo respiro. Riuscì a raggiungere la casa dei vicini che chiamarono subito i soccorsi. Una volta in ospedale riuscì a dare una descrizione completa di Tommy e dopo soli due giorni l'uomo venne arrestato. Crystal è riuscita a sopravvivere all'aggressione e il 3 aprile del 2014 Tommy Lynn Sands è stato giustiziato tramite iniezione letale.